e bentornati nel mio canale qui siamo sui risultati dei sondaggi come potete vedere dall'immagine allora verde foglia è stato quello meno votato di tutti con soltanto sei voti invece e art gold che stavo quello diciamo quasi alla pari con smeraldo cioè tipo ora vi spiego sa primo smeraldo e gold stava 15 13 e verde foglia 5 poi stamattina mi sveglio e tipo boom 17 verde foglia 6 e 17 pure saldo aspettavo tipo un'ora che in altro scriveva nel commento e finalmente è arrivato il diciottesimo e che faceva un altro commento su art gold o smeraldo vinceva subito infatti è uscito smeraldo infatti ragazzi il mio canale inizierà con indovinate 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 pokémon smeraldo perché sta a 18 voti è stato il più votato di tutti può essere perché è bello è bellissimo smeraldo e poi ragazzi può essere pure che è molto famoso tipo il gioco però pure art gold ma verde foglia non l'ha nessuno ragazzi e oggi inizierò con pokémon smeraldo e lasciate tantissimi like condividete il video e bella grazie a tutti grazie a tutti